Visto che ormai Berlusconi è fuori gioco e hanno detto tutto ed anche di più su di lui e devo dire che Berlusconi stesso ce ne ha messo del suo per farsene dire di tutti i colori comunque si ha visto che non hanno più l'obiettivo Berlusconi, quell'Italia cialtrona la quale pensa di fare politica esclusivamente demonizzando quello che per loro è il personaggio più potente, più importante del momento ecco che giù gragnole di insinuazioni, di discorsi sempre contro Renzi, sempre che Renzi non faccia altro che parlare più che fare, ma amici miei prima di fare bisogna annunciare quello che è il progetto del fare e poi bisogna verificare se si sono fatte le cose e se questa Italia cialtrona si guardasse veramente allo specchio capirebbe che Renzi ha annunciato tante cose ma tante cose ne ha già fatte e sono certo che tante cose ne farà, ah che orrore questa Italia cialtrona e quindi Grazie a tutti.